Il calciomercato in Serie D si prepara ad entrare nella sua fase più calda, pioggia di riconferme in casa Barletta. Dopo vicedomini, Cafagna e soprattutto Pignataro, i biancorossi si preparano a riaccogliere Giuseppe Telera e Vito Lavopa. Due tasselli importanti nella risalita del Barletta in Serie D, che vanno ad aggiungersi ai nuovi arrivi Nicola Loyodice, Riccardo Lattanzio ed Ezechiel Zaldua. Primi movimenti anche a Casarano, dove il neodirettore Francesco Montervino non è entrato proprio in punta di piedi nei meccanismi della società Rosso Blu. Prima Nicola Strambelli, poi Francesco Pambianchi e infine Massimiliano Marsili, quest'ultimo arrivato dal Taranto e vecchia conoscenza del DS. Il Casarano intanto ha messo nel mirino anche Andrea Saraniti. Per l'attaccante, ormai prossimo alla rescissione, sempre con il Taranto, c'è da battere la concorrenza di Brindisi, Catani e Trapani. Prende forma la Rosa del Bitonto. Il ritorno di Loris Palazzo alla sua terza esperienza. Il nero verde ha infiammato la piazza, mentre gli arrivi di Giuseppe Chiaradia, Pierluigi Riccio, Alessandro Guarnaccia e Carlo Clemente sono pienamente in linea con gli obiettivi stagionali. Il Bitonto, che non ha nessuna pretesa di alta classifica, riparte da una buona base. Novità infine anche a Molfetta. Il difensore Giuseppe De Gaulle continuerà a vestire la maglia bianco-rossa. In entrata invece ecco Giuseppe Tedesco, Gianluca Stasi e Luca Di Modugno.